Eccoci ritornati in diretta, quest'oggi vogliamo festeggiare un compleanno importante perché ieri in realtà il 7 febbraio la comunità di Sant'Egidio ha compiuto 56 anni. Noi questo pomeriggio poi trasmetteremo la festa, potremmo dire per eccellenza, la celebrazione eucaristica che sarà preseduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi nella basilica di San Paolo fuori le mura alle 18. Noi questa mattina, nel poco purtroppo tempo che abbiamo a disposizione, proveremo un po' a raccontare attraverso alcuni scatti significativi, alcuni momenti salienti della vita della comunità. E lo vogliamo fare con Massimiliano Signifredi che è collegato con noi da Roma. Buongiorno, bentrovato, grazie per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno, un saluto ai telespettatori di Padre Pio TV che ci seguono fedelmente ogni sera nella preghiera e che quindi sono con noi in questo 56esimo anniversario che ci dà il senso di un popolo in cammino, che continua ad aiutare in Italia, nel mondo, che continua a pregare, che continua a essere una presenza vicina, prossima della Chiesa. Auguri. Auguri davvero. In effetti abbiamo dimenticato di fare l'augurio più importante. Allora, avete scelto alcuni scatti per ricordare la strada, quella che indicò alla comunità San Giovanni Paolo II. Non porsi altro confine se non quello della carità che non ha confini. Sei foto, sei scatti che vogliamo vedere e commentare insieme, caro Massimiliano. Allora, partiamo da una foto con una data, 18 marzo 2023. Sì, è una foto di grande impatto, molto bella. Si vede Papa Francesco che il 18 marzo dello scorso anno ha ricevuto in udienza oltre 6 mila rifugiati arrivati in Italia e in altri paesi europei, in Francia e in Belgio, con i corridoi umanitari. Si vede il presidente della comunità di Sant'Egidio, il fondatore Andrea Riccardi e tanti bambini. Perché i rifugiati sono un popolo di bambini. Con i corridoi umanitari sono arrivate in Italia 5.600 persone, nuclei familiari da diversi scenari di guerra, dalla Siria, dall'Eritrea, dalla Libia. Sono persone integrate nelle nostre città, in tutta Italia e il Santo Padre ha voluto accoglierli per dimostrare l'affetto della Chiesa nei loro confronti e anche per indicare il modello dei corridoi umanitari di un'accoglienza possibile che si fonda appunto sull'integrazione e sull'offerta generosa di tante famiglie italiane, di tante parrocchie, di tante associazioni. E questo è sicuramente uno scatto che Sant'Egidio condivide con la Chiesa italiana. Una solidarietà che coinvolge anche l'Ucraina, voi fin dal primo giorno, da quel lontano 24 febbraio 2022, lontano ma anche così vicino, ecco siete stati in prima linea. Allora il secondo scatto che abbiamo insieme condiviso risale all'8 luglio del 2023 ed è il carico numero 100 di aiuti di Sant'Egidio che è la risposta della comunità appunto a questa guerra assurda che colpisce il cuore dell'Europa. Sì, la solidarietà è una risposta alla guerra, nel frattempo i carichi di aiuti umanitari sono diventati 150, ma la situazione in Ucraina è drammatica perché continuano i bombardamenti, la popolazione deve continuamente correre nei rifugi e ci sono, secondo le Nazioni Unite, 7 milioni di ucraini dentro il paese in emergenza alimentare. Noi rivolgiamo un appello a tutti quelli che ci ascoltano, che ci seguono, non dimentichiamo l'Ucraina, continuiamo ad aiutare perché c'è un popolo che soffre, che purtroppo è dimenticato, perché questo secondo anniversario di guerra passa in sordina, perché noi dimentichiamo facilmente, ci sono altre guerre terribili, c'è Gaza, c'è lo Yemen, c'è il Sudan, tante emergenze umanitarie, ma non possiamo dimenticare la guerra nel cuore dell'Europa. Alcuni giorni fa i giovani per la pace di Kiev hanno di nuovo aperto la loro sede che era stata bombardata nel marzo del 2022, nelle prime settimane di guerra. Un segno di speranza, un popolo che è afflitto dalla guerra continua a sperare solo grazie alla solidarietà. Massimiliano, un'altra foto che poi ci riporta al tema iniziale, quello dei corridoi umanitari e dei profughi afghani a Roma, una foto del 20 luglio 2023 che vediamo velocemente per poi passare al prossimo scatto. Questa è davvero evocativa, ma appunto hai già parlato dei corridoi umanitari. Vorrei invece andare al 10-12 settembre a Berlino. Le religioni si riuniscono nello spirito di Assisi per ribadire l'audacia della pace. Sì, era un incontro importante in una città simbolo dove il muro che divideva l'Europa è caduto, anche per guardare con speranza questo tempo di guerra in cui ci sono sempre nuove divisioni e il pellegrinaggio dei rappresentanti delle grandi religioni mondiali si sposterà nel mese di settembre a Parigi per continuare a parlare di pace, per continuare a testimoniare la pace dei leader religiosi perché come ha detto Giovanni Paolo II, convocando ad Assisi nel 1986 le religioni del mondo, la pace è un cantiere aperto a tutti. E' proprio così. Proseguiamo con le nostre... Non abbiamo più audio, credo, presumo. Vedevo Massimiliano che continuava a... non so se continua a sentirci, Massimiliano. Io vi sei? Ah, perfetto. Benissimo, no, vedevo che continuava a parlare ma non sentivamo l'audio. Proseguiamo con le foto, allora, la numero 5, che è la visita di pochi mesi fa del presidente Mattarella alla Casa dell'amicizia di Trastevere, che è il primo di decine di luoghi di accoglienza e carità nelle città d'Italia e nel mondo. Sì, il presidente Mattarella si è fermato nei corridoi di questo centro, che si chiama Casa dell'amicizia perché non è semplicemente un luogo dove distribuiamo i pacchi alimentari. E' un luogo in cui si ascoltano tante difficoltà e in cui si offrono delle possibili soluzioni. E questa foto si vede il presidente che saluta alcuni rifugiati. E' significativo che tra di loro alcuni sono passati ad aiutare come mediatori perché nessuno è così povero da non poter aiutare un altro povero. E il presidente Mattarella andando via ha parlato a braccio dicendo mi sono commosso a vedere un'Italia solidale che offre oltre alla possibilità di ascoltare anche delle soluzioni. Che meraviglia, è proprio così. Immagino appunto l'emozione di tutti i presenti quel giorno alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E poi una foto che è davvero iconica, un appuntamento immancabile per la comunità di Sant'Egidio che è il pranzo di Natale, Massimiliano. In un luogo unico. Sì, è la Basilica di Santa Maria in Trastevere. Il luogo che tutti i telespettatori di Padre Pio TV conoscono perché da lì ogni sera sale la preghiera e il giorno di Natale, il 25 dicembre, diventa la sala bella del banchetto della festa dove tutti coloro che sono esclusi partecipano a questa festa. Ci sono anziani, ci sono senza dimora, ci sono persone con disabilità. Tutti accolti nella festa insieme agli amici di Sant'Egidio che sono con loro tutto l'anno. Non un pranzo spot, ma il pranzo di famiglia. 250.000 persone quest'anno in tutto il mondo e penso che questo sia l'augurio più gradito per tutti noi. Continuare a vivere le tre P che ci ha indicato Papa Francesco. Preghiera, poveri e pace. Perché anche quest'anno che si apre, con la liturgia solenne presieduta dal Cardinale Zuppi, sia un anno in cui, dalla preghiera, incontrare i poveri e portare la pace nel mondo. Allora, ricordiamo l'appuntamento di questo pomeriggio alle 18 in diretta su Padre Pio TV, la celebrazione eucaristica di ringraziamento per i primi 56 anni di attività della comunità di Sant'Egidio preseduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi. Noi ringraziamo Massimiliano Signifredi per aver riassunto in pochi minuti, in pochi scatti, davvero un'enormità di iniziative e di programmi che avete portato avanti in questi primi 56 anni. Grazie e ancora auguri. Grazie, un saluto a tutti. Grazie, grazie di cuore. Cento di questi giorni, come si dice in queste occasioni. Allora, oggi una maratona, Leonardo, di ospiti, di argomenti. Voi intanto continuate a seguirci. Abbiamo l'ultima mezz'ora da trascorrere insieme. Lo faremo parlando di Sanremo, con le foto dei nostri amici telespettatori, perché ne sono arrivate tante, anche molto belle, naturalmente con le notizie di Nicola Morcavallo. Restate con noi.